Ciao a tutti, ho visto la puntata di martedì, l'ultima, non so se fosse il 10 o l'11 gennaio, adesso non ricordo le date, e ho visto Travaglio che affermava che Assad è un tagliagole, intanto che faceva l'intervista a Di Maio. Questa affermazione non è stata contestata da nessuno, nemmeno da Di Maio, perché purtroppo è una di quelle tante verità, diciamo così, tra virgolette, che ci hanno propagandato in questi anni, senza portare a supporto di questa nessuna prova. Tutti gli indizi che abbiamo provengono da fonti molto dubbie, quali terroristi, oppure ribelli armati, oppure attivisti finanziati o da Gran Bretagna o da Qatar. Ricordo che c'è stata, anche in Italia, c'è stata l'esposizione fotografica che mostrava tutti i crimini, tutte le torture inflitte da Assad ai suoi prigionieri, anche questa finanziata dal Qatar. è assolutamente non credibile, la storia stessa non ha nessun senso, perché il fotografo ha voluto mantenere la sua anonimità, il suo nome non si sa qual è, perché ha paura di retorsioni, dice lui. Però dopo dice, o dicono insomma, quelli che organizzano questa esposizione, che ha lavorato nelle prigioni di Assad come fotografo, come si dice, della scientifica, insomma, della polizia, per alcuni mesi e dicono le date da quando a quando. E, beh, insomma, voi pensate davvero che Assad non sia in grado di trovarlo? Se sappiamo il periodo in cui è lavorato, è lavorato come ufficiale, come fotografo ufficiale nella polizia, e ha bisogno dell'anonimato? Ovviamente no. L'anonimato è solo una scusa, perché noi, i giornalisti, non possiamo indagare e scoprire chi è questa persona, che legami ha, magari ha dei legami con i terroristi, magari... E questo mina la credibilità, senza poi contare che tutte queste sono foto... Si parla di 11.000 foto, in realtà non sono 11.000, nessuno le ha mai viste tutte. Si vedono sempre la stessa dozzina di fotografie, che possono essere state prese ovunque, e possono essere interpretate come si vuole, ecco. Vabbè, purtroppo tutte queste cose non vengono... Non vengono dette, né? Ben pochi lo sanno, bisogna leggere mezzi di informazione alternativi, e perché venga il dubbio, la verità purtroppo è quasi impossibile da conoscere, però almeno si può dubitare di quello che viene detto. Ah, questo è quanto, mi trovo davanti a un bellissimo supermercato, non lo faccio pubblicità, va bene. Allora, adesso vi saluto, ma riscriverò un articolo di blog più approfondito, perché mi rendo conto che questo discorso che ho fatto è un po' confuso, metto le idee a posto e scriverò poi posto. Ciao a tutti!